Rami spezzati e portati via dal vento, alberi pericolanti o caduti finiti in mezzo alle strade, imposte da rimettere in sicurezza e cornicioni divelti, ma anche tegole dei tetti cadute. Sono stati 45 gli interventi dei vigili del fuoco di Trieste tra stanotte e stamattina per il maltempo. La bora e la pioggia hanno iniziato a imperversare nella notte. Il forte vento, con raffiche che hanno superato i 70 km orari e le precipitazioni, hanno favorito un brusco calo delle temperature. La colonnina di mercurio si è abbassata di una decina di gradi e allora possiamo dirlo, l'estate è finita, con qualche giorno di anticipo. Ecco che in Piazza Unità si respira già l'autunno, con triestini e turisti a lottare per tenere saldo l'ombrello ed evitare che voli via. Via magliette e pantaloncini si torna a indossare impermeabili e giubbotti più pesanti, per far fronte al calo della temperatura che oggi si attesta sugli 11 gradi. Il sole e il caldo diventano un ricordo, spazio piogge e bora forte. Dei 45 interventi totali dei pompieri, 35 chiamate sono arrivate in nottata, altre 10 questa mattina. Tra le operazioni più complesse è quella di rimozione di un albero spezzato, rimasto appoggiato ai cavi elettrici, e la rimozione di un albero caduto in mezzo alla strada a Muggia e uno sulla carreggiata in via Santa Maria Maddalena a Trieste. Così durante l'ultimo giorno di allerta meteo gialla. Da domani di nuovo sole, ma le temperature estive non torneranno con il termometro che segnerà le minime a 11 gradi e le massime a 20.